Freedom, freedom Buonasera, ben ritrovati, siamo qui con Stefano Capitanio che non ci ha abbandonato stavolta, è troppo impegnato questo ragazzo Allora, ci hanno scritto da casa, ci chiedono Allora, se un ragazzo o una ragazza, visto che tu sei preparatore venisse da te e ha dei problemi di piede piatto ad esempio come cambia l'allenamento che deve fare una persona che ha questo problema al piede? Oddio, il piede piatto, una persona nasce, perciò a meno che a un'età molto piccola non sono riusciti a portarla all'ortopedico che gli ha cercato di cambiare la posizione, la postura e tutto se li tiene tutta la vita, perciò bisogna cercare di porre un problema meno possibile cioè dobbiamo cercare di non far pesare al cliente questa sua postura perché comunque chiaramente su un bambino di 4-5 anni non peserà a livello psicologico ma su una persona di 25-30 anni in su sicuramente può portare degli scompensi perciò dobbiamo cercare di far fare determinati esercizi che non vanno a intaccare già una postura di per sé non buona perciò dobbiamo stare attenti quando li mettiamo su un tapiro là sarebbe meglio evitare e portarli su una cicletta o su un free climbing che comunque tende a non divaricare più di tanto le gambe perciò le anche rimangono abbastanza in squadra e perciò non andiamo a caricare su dei piedi che comunque hanno di per sé già dei problemi poi tutto il resto gli esercizi si possono fare tranquillamente come una persona che ha una postura normale perché comunque alla fine gli esercizi vanno a caricare più gambe e la colonna vertebrale e meno i piedi perciò dobbiamo cercare di porre un'attenzione quando andiamo a correre quando andiamo a fare una camminata in salita perché comunque la persona con i piedi piatti andrà a spingere più sulle caviglie perciò va a sovraccaricare già di per sé una parte che nell'arco degli anni ha già caricato abbondantemente perfetto, per quanto riguarda invece chi avesse dei problemi di schiena questa volta ti parliamo sia di lordosi che di scogliosi che attenzioni bisogna avere quando ti si presenta un cliente con queste problematiche quindi magari però vuole fare la sua scheda e tu certi esercizi glieli fai evitare bisogna sempre vedere l'età della persona perciò se la lordosi o la scogliosi è in età abbastanza prematura cioè diciamo dai 13 ai 14 anni il ragazzo o la ragazza sicuramente l'attività fisica l'aiuterà a trovare una postura più perfetta, più lineare, più dritta se invece la scogliosi o la lordosi è arrivata già ormai in età abbastanza avanzata bisogna cercare di non caricare troppo la colonna vertebrale perché comunque la postura ormai è quella e difficilmente la persona riuscirà a cambiarla perciò dobbiamo cercare di lavorare su deltoide per cercare di portare la spalla un po' più larga diciamo dare l'effetto ottico che il corpo diciamo che è più a V cioè a V perciò fa la vita più stretta, la spalla un po' più larga e perciò la scogliosi da dietro alla lordosi si vedrà un po' meno chiaramente la persona con la lordosi o la scogliosi che ha un'età avanzata dovremmo farla lavorare con degli esercizi con un carico abbastanza limitato perché comunque nell'arco degli anni ha portato comunque uno scompenso nella colonna vertebrale e se non ha fatto attività fisica per molti anni è come una scuola cioè dobbiamo cercare di portarlo su un livello medio piano piano con l'andare del tempo quindi creare una muscolatura però stando attenti ma andare a creare e rafforzare quindi la schiena aiuterà il disagio che magari sicuramente aiuterà più una persona che è ancora in fase di sviluppo perciò avendo la fase di sviluppo e avendo questo problema sicuramente il corpo ne trarà dei benefici perché comunque tende a cambiare il modo di camminare, di muoversi invece una persona che da tanti anni che ormai ha questo modo di camminare inconsciamente lo fa perché ormai è abituato è una cosa un po' più diciamo complicata perché comunque è una cosa che lo fa da anni non è la stessa cosa di un ragazzino o di una ragazzina che comunque avendo magari un'età più giovane riesci magari a recuperarla e a modificarli anche nella schiena insomma le sue diciamo le sue muscoli un po' carenti questo per quanto riguarda proprio l'aspetto più tecnico legato all'esercizio mirato alla schiena sempre uno che ha questi problemi, queste problematiche invece per quanto riguarda l'attività aerobica può liberamente svolgerla? L'attività aerobica uno che ha una scogliosa, una lardosi può farla tranquillamente non va a ledere nessun tipo di articolazione, non è sconsigliata anzi sicuramente gli farà bene l'importante è che poi noi quando andiamo a fare degli esercizi specifici per la parte dorsale sappiamo cosa fargli fare perciò esercizi sicuramente devono essere non traumatici ma lineari e comunque con una diciamo vengono fatti fluidi cioè non a strappi ma non a scatto no bravo fluidi vuol dire un movimento fluido, protratto ma non a scatto e non traumatico e poi bisognerà fare attenzione immagino durante il giorno l'arco della giornata alla postura sì perché tante persone magari lavorano in ufficio, hanno la nostra lordosi, questa scogliosi e stanno magari piegati sulla sedia 15-25 ore a settimana sul computer che tende ad accartocciarsi è normale l'attività fisica magari gli porta ad avere una postura migliore e riescono comunque a raddrizzare un po' magari una parola un po' dai a migliorare a migliorare la loro postura che negli anni comunque era sbagliata perfetto Stefano grazie come sempre dobbiamo salutare perché i nostri minuti sono terminati salutiamo la telecamera un bacio lunedì prossimo buona serata a tutti e non